Non passiamo tantissimo tempo a vedere live, ma per il semplice motivo che sono un coglione, ho staccato il mouse, scusate. Parcio, mi devi dire in dove ho andato? Destra! Papà, culo! Che devo fare? Ma devi sperare. Ma papà, fa il culo! Ma che cazzo? Ma papà, fa il culo! Oh, ma che mi ha messo i piedi al culo? E dopo, quando io faccio, vabbè, vedi, allora quello arriva e fa... Capito? Quello fa? Così? E poi... Sì, lo dovrebbero... Questo è un po' di... Pure quella lì con gli uomini che... Atacca un Titan! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Attack on Titan! Tiri,iri,iri.. Tiri,iri,iri... Ma che cacchio vuoi da me? Ma chi ti cefila? Ma chi sei? Ma chi ti conosce biondo? Io ti curo. Dio ma io ti curo. Nooo! Se non ci venite a seguire non ci mettete tutti i file con i luoggini, non condividete, non ci stai inzitto, non se ne accorgo nessuno. E lo fai su due cose, e lo su due del resto? Ayo! Mi parla. Grazie a tutti.